La vita, chi possiamo chiamare per me? Linus. Dai, chiamiamolo. Dai, ma ciò che facciamo un culo. Linus, ti guarda che c'è Leone che vuole venire alla festa con me. Dai, andiamo a chiamarlo. E hai paura di chiamarlo? Andiamo a chiamarlo, dai. Vieni a riprendere. Dai, ma c'è qua il numero. Tu ce l'hai mai falso, sicuramente. Ciao. No, martedì alle 16, mancioledì alle 16. Sì, non ce la vuoi un cazzo, fitta. Non risponde, ma so. Non risponde, cagasotto. E cagasotto, ma so. Non lo conosco. Sono tutti cagasotto. Non risponde, ma so. E cagasotto. Stava correndo. Linus e cagasotto. Non risponde. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Sì, richiamami, sono Leone. Risponde la segreteria telefonica di 3-3-5-6. Linus, richiamami, sono Leone di Lerni. Ti devo dire delle cose importanti. Ascolto, tira fuori un po' di coraggio e chiamami, cornuto. Cagasotto. Cosa vuoi fare? Non sei più capace di fare un cazzo. Massimo. Tu sai che quando ci sono io, il picco arriva. BOOM! Mamma mia, dell'alito però. Eh, lo so, non ho mangiato una caramella. E non ce le ho. Che cazzo c'hai un po'?